andiamo tanto adesso fanno cadere quel sasso lì seve accendila vai a fare un giro ma va a fare un giro accendila e vai te l'ho detto che gli cade addosso vai accendila al zio seve vai e tanto usci la pizza per mananca vai vai accendila vai accendila ah c'è il dito se no ciao che cancella eh ciao ciao ah scusi cogera forte cogera forte cogera forte cogera forte ce la fai è troppo veloce è troppo veloce no perché se si ferma e poi gli da lo riesce a fermare ma se va in continuo non ce la fai a tenerla è troppo veloce oi lo faccio così bene buongiorno ma cosa ci fa da fuori se gli passa giù che gli va fuori fai un volo se ti passava fuori un pezzettino di più arrivavi là al quad se l'ha imbuccavi e andavi via e vada mi ha detto vai su che devi tirare giù il sasso porca loca e le più in là andavi via dai che c'è la freccia guarda come 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 dai che sei a uno sei a uno l'ho detto che se prendeva un altro sasso e ma è andato via a piatto poi eh vai vedete che il sasso io l'ho mai andato dai che letta lei chierata giù n'ho mai andato but ah ma te quando ci vai lui no lui è quello bione io no adesso basta scusami ormai sasso non c'è più dai gli dobbiamo metterli qualcosa ma Rebzo che problemi c'hai? bravo eh quello è un jolly ma quasi c'era eh quello è un jolly esagerato e poi tocca ai porti non c'è ne più di jolly ricordati dai che zio se ve l'abbiamo inzicato l'abbiamo inzicato vedi che è in giro zio seve è andato zio seve è l'unico trailista al mondo che prende in mano il montese e dice oh cazzo come è leggero è un anno che non va per forza oh 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 calma eh quasi c'era quasi c'era quasi c'era ma ha appoggiato ancora la ruota qua non doveva appoggiarla dopo di questo che cazzo facciamo qua qua? questo è terreno scorpa eh ma quando non c'è più sellone lo Stefano non è più lo stesso ma capite perché prima era diventato come carcanella come carcanella andiamo a casa aia 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 ha giocato bene quella volta lì non devi girare zio e che pianta che non trattiamo tutti a casa a casa via fuori dalle balle tutti via